Eccolo qua, in campo ma in ritardo, però questo va detto. Altra buona prestazione Davide, per te quando cominciamo dal pareggio Beffa, insomma cosa è successo in quegli ultimi secondi? Lavellino sembrava avere in mano la partita, forse un po' di ingenuità sul gol di Ferrante. Sì, un pareggio amaro, perché la partita stava per volgere il termine e quando prendi un gol a tempo quasi scaduto c'è sempre quella rabbiatura. Forse è venuto a mancare un po' di aggressività e Ferrante è stato bravo a far gol. Lavellino che si è allungato un po' troppo nel finale, magari poteva gestire meglio il risultato piuttosto che cercare il terzo gol, però insomma c'è stata tanta cattiveria, il carattere oggi è venuto fuori, lavellino in vantaggio per due volte. La strada è sempre quella giusta, al di là del fatto che si potrebbero rosicchiare i punti sulle dirette concorrenti. Sì, diciamo che è una cosa in cui dobbiamo migliorare. Quando andiamo in vantaggio, magari al posto di abbassarci, è meglio aggredirli e provare a trovare il secondo gol. Siamo riusciti a riandare in vantaggio, però poi siamo stati sia sfortunati sia poco attenti. A campo basso bisognerà vestirsi da grande perché l'avellino al dodicesimo è stato utile consecutivo, ormai ha dimostrato di essere una big di questo girone, quindi su ogni campo sul quale si va bisognerà cercare di vincere. Sì, le partite sono tutte difficili, l'importante è non sbagliare l'atteggiamento perché se viene a mancare quello le partite diventano tutte difficili. Noi siamo un'ottima squadra, quando non sbagliamo l'atteggiamento mettiamo in difficoltà chiunque. Grazie, grazie mille. A Davide Bove per essere stato con noi.